Hanno occupato l'asilo nido primo maggio in segno di protesta al grido di save asili nido. Nel giorno d'inizio del nuovo anno pedagogico, all'Aquila monta la protesta delle famiglie e delle educatrici precarie e disoccupate che non hanno ottenuto il rinnovo del contratto. Porte chiuse e cancelli serrati infatti per circa un centinaio di bambini, due asili nido rimasti chiusi. L'amministrazione comunale non ha trovato una soluzione al problema del rinnovo dei contratti per le 15 educatrici precarie in servizio nei nidi dal 2010 dopo aver superato regolarmente il concorso pubblico per l'ammissione. A poco sono servite le rassicurazioni della senatrice Stefania Pezzopane sull'emanazione della circolare del governo a firma del ministro Madia che ha permesso ad altri comuni italiani di rinnovare i contratti delle precarie storiche dei nidi. Il sindaco Massimo Cialente invece aveva affermato nei giorni scorsi che i soldi per il rinnovo dei contratti ci sono ma che non è possibile spenderli per mancanza di una norma. Noi chiediamo di essere trattate come le educatrici precarie di Roma che tramite la circolare del ministro Madia hanno potuto ricevere la proroga a causa del job act che non permetteva la proroga oltre 36 mesi. Noi siamo molto arrabbiate come mamme perché la senatrice Pezzopane ha dato una possibilità di riapertura degli asili. Tutte le città italiane si sono organizzate per l'apertura tranne l'Aquila. Il sindaco non ci sta dando delle motivazioni valide, vorremmo sapere qual è la verità e soprattutto vogliamo che venga riaperto l'asilo nido primo maggio. Anche la senatrice aquilana del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, esprime il più ampio dissenso riguardo la situazione nido all'Aquila. È ora che questa amministrazione comunale dice si assuma le responsabilità e trovi una rapida soluzione che di fatto già esiste. Il decreto Madia c'è, le norme ci sono, quindi sono le amministrazioni locali che a questo punto devono attivarsi.